Più di un anno fa abbiamo presentato il progetto di riqualificazione del nostro oratorio della parrocchia di Premolo. Dopo quell'assemblea abbiamo presentato il progetto alla Curia affinché lo inoltrasse presso l'ufficio regionale dei beni culturali perché questo oratorio almeno in parte risale alla fine dell'Ottocento e quindi ogni tipo di intervento deve essere autorizzato da quell'ufficio. Diversi motivi, diversi problemi che non sono di causa nostra ma che dipendevano dall'ufficio stesso non hanno permesso una risposta in qualche senso se non dopo più di un anno. Allora in modo informale quindi l'architetto responsabile che è l'architetto Puglielli ci ha detto che è stato approvato il progetto. Quindi questo progetto che verrà ora inoltrato presso l'ufficio responsabile del nostro comune. In realtà l'iter è un po' più complesso e cioè i beni culturali inoltrano una coppia di questo progetto all'ufficio di Curia competente. È una coppia di questo progetto che ha un'autorizzazione al comune. Questi due enti senza passare dalla parrocchia ricevono tale progetto. La Curia deve emanare un decreto dell'ordinario cioè del vescovo con il quale noi siamo autorizzati a presentare il progetto presso il comune. Quindi alla commissione edilizia si servirà un permesso per edificare o una dia se è soltanto invece sufficiente per la ristrutturazione. Da quel momento passeremo alla terza fase del nostro progetto che è quello di verificare le nostre potenzialità economiche che è quello di decidere in modo puntuale e preciso l'entità economica dell'intervento perché è chiaro che l'intervento può essere fatto complessivo, può essere fatto parziale, può essere realizzato attraverso un bando di concorso e quindi dato completamente ad un'azienda oppure può essere realizzato in modo diverso. Quindi saremo poi noi della parrocchia che decideremo come fare questa realizzazione. Con tutta probabilità quindi se non sorgono altre questioni di carattere burocratico e se il comune come pare non ha delle perplessità rispetto a questo progetto noi intenderemmo incominciare a vedere qualcosa alla fine dell'estate quindi inizio di autunno per cui mese di settembre, ottobre sicuramente intenderemmo incominciare ad intervenire. Poi dipende anche dalla risposta dell'agente di Premolo perché se la risposta è caldissima allora tutto quanto assume una velocità elevata. Se la risposta è tiepida è chiaro che i tempi diventano un po' più lunghi. Comunque quanto riguarda il preventivo più preciso quindi il metterci a un tavolo con penna e matita e fare i conti insieme questo lo faremo anche attraverso un'assemblea. Di questo è importantissimo perché noi intenderemmo quando arrivano tutti i documenti ufficiali convocare un'assemblea parrocchiale e con l'agente di Premolo vedere un pochettino cosa abbiamo a disposizione e quant'altro.